Oxford College Mita, l'inglese per te apre nuovi orizzonti. D'appeso al tuo curriculum, ti serve sempre, nella vita quotidiana, nel lavoro, a scuola, ovunque. Sono aperte le iscrizioni per i nuovi corsi di lingua inglese tenuti esclusivamente da insegnanti di madrelingua. Corso di conversazione, solo due mesi, 59 euro. Corso per certificazione internazionale B1, B2, C1, C2, 69 euro al mese, più 39 euro di iscrizione. Corso per bambini da 5 a 9 anni, 39 euro al mese, più 39 euro di iscrizione. E ragazzi da 10 a 13 anni, 39 euro al mese, più 59 euro di iscrizione. La scuola Oxford College Mita è centro esami internazionali TIRSON, LCCI e Trinity, entrambi riconosciuti dal MIUR e British Council. Si svolgono anche corsi di spagnolo, tedesco, francese, arabo e russo a partire da 39 euro. Corsi personalizzati per tutte le lingue. Oxford College Mita, scuola d'inglese, via nazionale 78 di fronte al palazzo comunale, a Melito Portosalvo. Info 0965 78 96 47 o 389 44 42 209.